Comunque devi portarmi e aprire il video. No dai perchè aprire il video? Dai, cosa devi dire o non devi dire? Non devi dire proprio questo! Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti! Questo è il primo video che registriamo, mi hai fatto questo? Si, si può così. E oggi ti registriamo a FIFA, giusto? Una partita a FIFA. Si, ma dico da la, non me. Semplicemente una partita a FIFA. No, a Mare, ti chiedo di confermare. Lei ha già scelto l'Inter, però vabbè, ovviamente lo prenderà, io penso che lo prenderà un po', magari a Fiorentina, comunque una squadra così, ma tanto lo batto comunque. Cioè, ricordo che con il FIFA di primo ricordo un Real Madrid al Binolet, dove tu hai perso 2 a 1, amore. No, che al Binolet? Avellino, scusa, avellino, avellino, c'era Tavano, per cui avellino. Sì, vabbè, non giocavo a FIFA da 10 anni. Sì, vabbè, però era per il Real Madrid al Binolet con la cupina. Non è vero. Ma come no? C'è pure il tuo fratello. No, stavo registrando. Che spiegata che sei. Klaus, aspetta che spengo il mouse perché se no tu. Cosa fa? Segui la luce come i gatti? Vi lo puntano sul balcone. Ma non vedi la luce sotto al mouse? Come fa a vederla? Però mi muove il mouse. Perché è stupido. Ehi, clicco io. Stavo c'entra niente. 1, 2, stai molto calma. Video mio, clicco io. Guarda. D'altro mi sei eliminato ancora il video di FIFA che ho registrato. Certo. Eeeh, fuuuu. Ragazzi, tutto il giorno è così, è una cosa insopportabile. Non avete idea della mia vita quanto sia difficile. Non mi ricordo proprio. Nene, 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 nene. Sì, ma così mi cadono le confiette. Amore, se gioco in mezzo alle balle. Partita classica? Sì. Ok. Quindi tu Inter. Tu Silvia. Klaus si sta mangiando un assorbente. Vai, valla a prendere, amore. Amore. Perché tu l'hai lasciato aperto l'armadio. Ah, io? Chi è che ha fatto un bordello da una madonna? Biscotto. Chi ne vuole un biscottino? Gio Gio vuole un biscottino? Dai. Chi ne vuole un biscottino? Eh? Chi ne vuole? Arrivo, amici, amici. Adi tu, mezz'ora di video, ci sei tu che va in giro per la camera. E non ti vedo, meno male che non ti vedo. Va, va. Tocca una cosa e ne cadono cinto. Io prendo Borussia Dortmund, comunque. Parese, Borussia Dortmund. Eh. Che palesemente me lo ha fatto. Ma perché non mi si chiude l'armadio? Tu che maglio vuole usare? Ovviamente questa. Cioè, che domani? Io devo guardare, devo guardare la formazione. Devo guardare cosa vuoi. Quale che vuoi. Ah, dopo devo impostare il comando. No, 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 così non mi faccio. Signal in due, no, signal in due una parte. Non so come si dice. Allora, sto lì. Bacca il sole. No, assolutamente. Cioè, muoviamoci per cambiare delle cose. Cosa? Cosa c'è al primo? No. Campalato? No. Non ci sono. Ma le ha rotto? Oh, lo tocco a te, madame. Oddio, aspetta che non si toghi. Ma vanno, amore? No Sì Ma dai, smetti a... Di fare che? Quello che stai facendo Cioè, se non fosse sopalla Esatto, esatto Klaus, in mio armadio Klaus Che ragazza, amore? No Ti ho risparmiato Sì Diciamo che non sei capace Sì, non so Sì 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 Beh Vedi che lagga? Sì Sì, infatti non lo sto capendo tanto da un paolo Sì Ah, ecco No, perché ho i testi invertiti io Cartellino Ho i testi invertiti E fai pausa Da... Io non ho l'alternativo Impostazioni Comandi Sì Vedi E fai... Esatto Alterna qui Ora Qualcosa Che ho i testi Ma Non ti ho neanche visto Nooo E io non ho i testi Perchè E io non ho i testi No E io non ho i testi E io non ho il luogo E io non ho i testi Perchè Che Ah Devo Quattro Che Mh, è molto bello! Attenzione che mi parlate della squadra Dai, bravo! I miei uomini non sono affettativi Sei scarso però Dai, scarsino Amore, stai ancora cercando la palla Non è ancora, ce l'ho nel mio portiere Ho sbagliato, mi sono distratto Oh, l'ho presa! Attenzione! Dai, però A parte che, io non riesco a giocare con la freccina gialla Ahah, il problema adesso è la freccina gialla Attenzione! Attenzione! Dai, non so cosa ci successe, avrete giocare così E' il mio internet, non lo fa mai Cosa fai? Non c'è niente tanto a te No, adesso lo voglio andare a piacere con qualcosa Ahah Ma dai, ma che stronza che sei! Vedi tu! Sì, vabbè, ma se passa dopo 25 anni Sì Eh, ma che apertura Ahah Pensavo che esiste, non stavo più correndo Che portierone Ma raga, io ho un problema FIFA Devo sapere questa cosa Non so segnare Cioè, arrivo in porta con la palla Però me ne scappa qua Non so dove la sto Nonostante Da quanto ce l'abbiamo FIFA? Un mese? Da quando è uscito? Nonostante ci stia giocando di brutto Cosa è successo? Era fuori gioco? Eh, già Ma dai, non è mai vero Sì, è come anche il calcio Ha comunque delle regole Ma calci No, volevo farti tu Ma dai, la prendo io Se facciamo gol Solo perché ho sbagliato la faccia con me Il mio cane mi sta rendendo meravigliosa Mamma mia, quanto non per le balle sto cane No, bravo amore Uuuu Non me lo aspettavo Eh, però ho finito da un momento di gioia Bravo amore, fai gol Eh, non va Eh Eh Bravo Brava Bello sto lag Hai imparato oggi ancora una lag? No, roba di Poi il brutto non posso aggirla Già Scusa Scusa Ti posso un po' sedere Veramente sono tutta io in scivolata così Mi sono emozionata raga Guarda che mi sta Oh Che culo Si viene anche per la palla Io non l'ho più vista Cosa sto facendo? No Hai fatto una cosa giusta No Ma non urlare Mi caso quando faccio queste cose Ma ti casi cosa? Non so neanche io come faccio a farle però Ti casi cosa? Guarda amore Opla Opla Oh No Che culo Ma che culo Vieni amore mio Vieni Si No No Attacchi giù Per favore Pronto e mezzo Ti muovi Gio 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 Ma cosa fa? Grazie amore Grazie amore Nooo Perché ho schiacciato troppe volte B Sì Non era palla No No Dai Appallonati si sta prendendo Ti ha salvata la campanella Dai che mi togli la cuffietta Sì ma non urlare Sì ma tu sei uno stronzo Però Perché so giocare tu no? Non sai giocando Com'è? Mi parlerai più forte Sì Ah ma devo andare da l'altra parte Eh già eh Quals'esco il calcioforte eh Un attimo Un attimo Un giri l'ancra Su una pischietta Della l'altra parte Ho spiegato troppo Dai Uuuu Euuuu Scusa guarda lui che è proprio andato per terra, guarda là, eh, ti volevo fare scivolata Eh già, però, se vuoi dopo facciamola rivincita, guarda, no, perché no, perché sei convinta E comunque di vincerti, giusto? Sì, brava, questo è lo spirito, eh, attenzione, brava, eh, fuori gioco magari, vedi tu, baby, Borussia Dortmund è la squadra di quale città? Borussia Dortmund, è poi come dire che la Sandaria fa la squadra di Sandaria Sì, grazie, brava, ho sbagliato Che vita di merda, quella di stare qua davanti Ah, quando vuoi Scherzo, mamma, non siamo per malusini Vedi tu, ma sei come per malotto Maurito, ma cosa fai, ma dai Oddio Ma perché io non posso giocare in undici e tu in nove cartellini? Perché sono in undici e non mi faccio molto a stare due giocatori Ma quando, Asamoah, ma quando? Cioè, ha saltato la palla invece che prenderla Ma dica, sei stronzo Perché sono stronzo, sto giocando a calcio, amore, vuoi fare la sfida viva, gioco a FIFA Ok, però dai Però, cosa? Oh, devi smetterla Ma fai che? Cioè, è arrivato nella porta e torno indietro? Sì Ma andiamo pronto, io andiamo a prendere la Fiorentina e tu prendi la squadra che vuoi No, dopo facciamo la sfida stip Ah, ok, non bemo, amore Che sono più brava Quale Dx Games facciamo, dai Ma non l'ho mai fatto Ok Attenzione, amore Nooo Un'altra cosa che non so fare a chi fa è segnare sui cross No, non volevo passarla di là Amici, dove siete? Nooo Non potevi farmela passare? No Ma è una schiena strana se suona, cioè Ma che c'è se suona? Voi che potevi cambiare? C'ha proprio difensori In chiaro Proprio difensore di pensare non si fa le cose Sì, vabbè, vabbè Cioè, io vado da una parte e il tuo difensore vado dall'altra Ma cosa ha fatto Vessino? Ma quanti armoni ti c'hai tu? Cosa ha fatto Vessino? Tredici su un dici su da te Grazie, amore No Grazie a voi, perché non si è giocato Sto facendo da zero Io non si è giocato Va bene Oh Prende un livello a prende No, è di noce, però Dai Dai Cosa? Cosa? Mia, 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 mia Cosa? Ma per forza è caduto il mio giocatore Cosa? 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 Dai, amo Cosa? 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 Ok Cosa? Mettilo Uf, ellicagna eh ma lo devo mettere al posto di Iki guarda mi faccio un altro no dai non ti voglio più giocare io con te basta vai via fuori è rimasto il più che pensavo ci fosse un topo ma che azione madonna possiamo arrivare all'azione? no non possiamo dai non possiamo ho fatto un'azione che... no proprio mi fa un cambio io l'odio faccio proprio... ah guarda mettiamo l'autaro qui ma scusa metti l'autaro... no non parlo che posso arrivare troppo di pari quanto c'ha? c'hanno 79 l'autaro metto come difensore cominciamo prima ho il posto ti muovi? certo dove l'hai messo? poi si vengono da vera si non volevo togliere Maurito è il mio lobi ma come parli amore? ti riprendi? dai stavo scherzando lobaaaaa ti da un punto guarda guarda io lo odio non gioco più in pasta io lo odio non gioco più in pasta i risultati c'è lì proprio ciao mi chiamo lì mi faccio vedere tutti perchè? oh troppo chiuso mi stai spingendo via con la spalla scusa è perchè sto cercando di liberarmi da Klaus guarda io sono piccolino io sono piccolino e mi ha rubato la cucchia sono arrivata in aria quanto sono pronto no 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 cos'è sta cosa? le scorreggiti raga 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 dai raga contropiede eeeeee troppo non c'è nessuno? perchè non corre? no è stanco ah è stanco un pochino ok però devi cittare il video ma no è un altro video ah ok va bene se vi è piaciuto questo video ditecelo che porteremo un altro gioco che non abbiamo chiudi il video ciao non si chiude così ah devo chiudere come fai tu si però a mio modo si ok ciao a te ragazzi se volete un altro video diteglielo così mi sono scaccolato bravo dai fallo bene ditelo così porteremo qualcosa che mi potete andare guarderà o qualsiasi altra cosa ma perchè non mi piace tu mi fai le macombo e gli scherzi e quindi niente al prossimo video qui 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 Grazie per la visione!